In questi giorni di forte siccità la portata di questo fiume si è ridotta così tanto fino a scendere sotto il livello dello zero idrometrico in località Ponte Alto. Quando il fiume è in piena il livello dell'acqua raggiunge il piano dove mi trovo adesso. Nei casi eccezionali il livello dell'acqua può raggiungere altezze più importanti come durante l'alluvione del 2014. Nella zona in cui mi trovo adesso esistono le più grandi falde acquifere della provincia di Modena. Qui sono in località Marzaglia e alle mie spalle c'è un impianto dell'acquedotto che serve proprio per estrarre l'acqua e per rifornire Modena e provincia. In questa zona ricca di falde acquifere e soprattutto con il problema della siccità e della disponibilità dell'acqua c'è il progetto di costruire l'autostrada Bertella Campogalliano-Sassuolo il cui tracciato dovrebbe passare proprio per queste campagne dove sotto si trovano le falde acquifere più importanti di Modena e provincia.